Subito, felici, impegnati con i figlioletti, ma le neomamme vogliono anche tornare in forma giustamente. Vediamo come, con Silvia Zerilli e poi torniamo in studio. Un po' in avanti, un po' indietro. Da quanto tempo ha partorito? Da un mese. Come è stato rimettersi in forma? Sono stata fortunata, sono di costituzione magra e ho preso durante la gravidanza veramente poco, solo 8 kg circa. Poi, subito dopo che ho partorito, sono riuscita comunque a mettermi in forma con l'alimentazione e poi allattando mi ha aiutato tantissimo. Il parto, in particolare quello vaginale, è un momento di sforzo per la donna, soprattutto a livello fisico. Nel controllo post partum, che in condizioni normali, mediamente, viene fatto dopo 3-4 settimane, spesso si riscontra un'alterazione a livello anatomico, in particolare a carico del pavimento pelvico. E' la parte, la muscolatura che viene coinvolta sia durante tutto il periodo dilatante del travaglio, sia durante il periodo espulsivo. Ma ci si può rimettere in forma seguendo alcuni accorgimenti ed esercizi. Allora, sono degli esercizi, li chiamiamo esercizi di Kegel, infatti in diverse posture, in diverse posizioni, sono delle contrazioni e dei rilasci, alcuni sono contrazioni e rilasci molto brevi, altri sfruttano la forza più tonica di questi muscoli, contrazioni lunghe, molto intense, per 10 secondi. Inspira e fai un grande cerchio, esplora, 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 non avere paura di esplorare, bravissima. Questa attività va fatta intorno al secondo mese, è molto semplice, si fa a domicilio, la si insegna in ospedale e poi a casa la mamma la fa tutti i giorni. Con una finalità precisa. Rieducare, ristimolare la muscolatura e il pavimento pelvico a riprendere il tono che sicuramente il parto ha alterato. Sull'uso di pancere o fasciature si fa sostanzialmente una distinzione tra parto naturale e cesareo. La fasciatura solitamente la consigliamo dopo taglio cesareo, soprattutto nei primi giorni. Soprattutto le donne che hanno partorito spontaneamente, sconsigliamo l'uso della pancera, anche perché forzare gli addominali vorrebbe dire premere di nuovo sul pavimento pelvico, che è morbido e rilasciato dal parto. Il parto vaginale può essere accompagnato da un taglietto, eseguito sul perineo dall'ostetrica al momento dell'espulsione della testa del bimbo o da una lacerazione spontanea. Noi consigliamo sempre l'attesa di qualche settimana prima di riniziare un'attività fisica intensa che coinvolga la muscolatura del pavimento pelvico o la muscolatura addominale. Questo in entrambi i casi o in caso di lacerazione? In entrambi i casi. A terra ovviamente il perineo è meno pressato dalla forza di gravità e meno appesantito dagli organi addominali, quindi è un po' più semplice fare gli esercizi in questa posizione. Faceva attività fisica anche prima? Sì, sì, ho sempre fatto attività sportiva, ho sempre corso, mi sono fermata durante la gravidanza dei 9 mesi e spero di ritornare al più presto. La ripresa dell'attività fisica è consigliata, anche qui però è bene seguire delle regole. Consigliamo alle mamme che hanno partorito di recuperare i muscoli perineali, quindi di esercitarli e tonificarli prima di andare a correre.